Hai una startup innovativa? Entra in Assolombarda Confindustria Milano, Monza e Brianza. Tu sviluppi la tua idea, a tutto il resto pensiamo noi e a te non costa nulla. Devi solo pensare a sviluppare il tuo business, cosa vuoi più di così? Siamo un'associazione di cui fanno parte circa 6.000 imprese sul territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza. Tra loro puoi trovare oltre 200 startup, più una, la tua. Che cosa possiamo fare per la tua startup? Il nostro startup desk ti affianca per costruire la tua società, per segnalarti bandi di finanziamento, sviluppare il tuo business e non solo. Ti supportiamo in tanti altri modi, basta chiedercelo. Che cosa possiamo fare per il tuo business? Con noi il tuo network cresce, puoi incontrare altre startup con cui fare rete e anche tutte le altre imprese associate. Organizziamo eventi e incontri business to business proprio per favorire lo sviluppo di partnership e collaborazioni. Ti mettiamo a disposizione spazi di co-working e ti mettiamo in contatto con gli incubatori, con il sistema finanziario, con le università e con tanti altri soggetti che promuovono le startup e l'innovazione. Perché non ti costa niente? Perché le startup innovative con sede nel nostro territorio, nate da meno di 48 mesi e con un fatturato fino a 500.000 euro, possono associarsi con uno sconto del 100% sulla quota associativa. È un modo concreto di sostenerti. Perché lo facciamo? Perché crediamo che le startup come la tua siano il futuro del sistema produttivo, del territorio e del paese. Costruiamolo insieme! Costruiamolo insieme! Costruir questo corretto! Costruir questo corrento! Costruir questo corrento! Mistril è un lavoro bisogno! Qu accusing ossiasc felATE.